Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Harry Maguire C'ho molto più più problemi con l'aereo comunque che ascende le discese E' terribile Ma chi è quello? Ma chi è uno con la... Grazie per i 26, Mosk, grazie per i 4 Chiamatemi Baumgartner Io cani qua Baumgarten Baumgarten Io credo Baumgarten Ragazzi Che vuoi Manu? Che macchina siete? La mer E per qualche motivo Cristiano Ronaldo viene alla Roma Io faccio il giorno stesso dell'ufficialità di Cristiano Ronaldo alla Roma Io attacco la stream e conto fino a un milione Conto fino a un milione Mi faccio una stream dove conto fino a un milione Porti porco dio Ti prego Ti prego non la trolla No Troppa rincorsa forse Ho all'incirca dato, non voglio manco vantamme ma ho all'incirca dato 300 cazzotti in un minuto e me, in 20 secondi, cioè in 10 secondi Parco dio ti suonemarco Sei stato infregnato amico Sono stato No Sono stato Non mi vendicherò Ma c'è bisogno frate porco dio ha fatto come schettino sto in fondo al mare praticamente In fondo al mare In fondo al mare In fondo al mare BLEAR BLEAR CREPA IN GAME E DICE A PORCA PALETTA XIUDERONE CREPA TUA MADRE QUELLA PIANA DI MERDA ME LA CHIAVO GLI PORTO GLI ASCIUGAMANI IN TANGENZIALE Vie la gag, mamma mia, bam, ero rotto il cazzo di Giorgio si chiamava l'altro ho messo Vanessa, ho messo Vanessa c'è il cazzo Vanessa c'è il cazzo tutti addosso al muro tutti addosso al muro ma ma non è, ma non so loro quanto cazzo sa fare si ma io non riesco a prendere velocità un coglione che cadi allora ma non guarda tagliatelo tagliatelo adesso il cazzo tagliatelo adesso il cazzo tagliatelo un coglione tagliatelo un coglione no, no, no ti tagliatelo un coglione mo tu ti prendi un coglione che lo tagli porco dio e no e poi te lo dà che ci fai una cosa tipo pugilato c'è fai tagliati un coglione e ha avuto un figo esci fuori da questo corpo diavolo demone ecco di dio è un invito Zanon è un invito è un invito è un invito ma io sto zitto finchè non mi inviti vabbè Tino non sta succedendo in più cazzo raga prendi il mouse provo a impegnarmi e metto un attimo dentro lo schermo ciao Flanders mi metto dentro lo schermo sempre gay sempre la slot solo palline gialle 120 euro oh ammazza mannaggia alla madonna dissociati ha tirato un bolide ma che fa a Dannarumma 16 euro oddio all'ultimo se la porta a casa 18 euro parte parte il recupero madonna benzema ma sta pulita non l'avrei non l'avevo riconosciuto subito ah è vero 700.000 su The Me 50.000 su Manux ragazzi è tutto di bucio di culo eh cioè non ce vuole skill cioè allora è vero che a volte fanno delle giocate un po' strane ma in realtà su Yoshi credo di averne vinte più io ultimamente dimmi giovanotto cosa fa rima con l'allegro ok Stephen Hawking ok tanto bro tranquillo di cosa ti preoccupi cioè voglio dire è già vinta bello eh vabbè dai cazzo grazie Stephen Hawking grazie per le tre giftate eh eh vabbè Stephen Hawking è un mostro prende sempre dei nomi ma guarda Stephen Hawking se tre che ha beccato asparago selvatico l'iltezzo e dio dissociati dio fall guys beh io cane no 160 euro di side eh vabbè poc ma quanto che sei vatto ma poi è bellissimo no no ma lo riprendo sempre perché poi Manu fai quella roba ma poi tipo ma lo tengo nel wallet con la cosa della come vince come vince la mano puntualmente sì 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 è assurdo e ha fatto un 20 che non ha senso di esistere sì 5 milioni ma ho fatto un altro tris ma basta gli scrivo a Itch e se metta Itch sape finì sape finì sape finì sono i campioni ma solo brillare ebbano 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 il dio dell'anno il dio strepitoso ebbano la mette sotto al 7 credo